Nel complesso un buonissimo feedback da parte delle persone che sono venute è molto contente del fatto sia di ricevere informazioni rispetto a quello che è il piano quartieri ma sia soprattutto della possibilità di poter intervenire, quindi partecipare, lasciare osservazioni, lasciare progetti Hanno mostrato particolare interesse sia per gli argomenti sia per la presenza di tecnici e politici che gli hanno dato risposte in concreto e con un dialogo che hanno potuto rappresentare le problematiche e l'evoluzione del piano quartieri con riferimento alle scuole, alla mobilità, alle strade La presentazione del piano quartieri nel Municipio 9 ha avuto un'affluenza positiva di cittadini C'è stata una particolare attenzione a tutte le iniziative, soprattutto sullo sviluppo urbanistico del territorio e su quelli che sono gli interventi che riguardano sia la manutenzione stradale che i progetti di riqualificazione urbana e del verde